Sindaco Wenner, il Comune di Valbrona dal mese di agosto ha iniziato a installare 16 telecamere di video sorveglianza distribuite sul territorio grazie a un contributo regionale. Ci parli di questo progetto? È stato ultimato a giorni, giorni fa proprio, il progetto finanziato appunto anche questo da Regione Lombardia in parte per il posizionamento e l'installazione di numero 16 telecamere sul territorio di Valbrona. Queste telecamere sono state disposte nei vari punti strategici e penso che siano molto importanti perché hanno già cominciato a operare perché proprio domenica scorsa c'è stato praticamente un incidente e mi ha fatto piacere vedere sul video nostro che abbiamo in comune nell'ufficio della Polizia Locale nostra come è successo l'incidente. Dunque sicuramente stanno funzionando già abbastanza bene comunque non solo innanzitutto per la sicurezza ma poi anche questo impianto qua per rogitare e avere continuamente praticamente sotto presente come sta funzionando la viabilità, se ci sono dei problemi di viabilità, se c'è qualcosa da migliorare, se ci sono delle anomalie o praticamente delle trasgressioni. Insomma è un lavoro che secondo me è andato a buon fine e servirà moltissimo per la sicurezza, per il decoro, per la tranquillità di tutti i cittadini di Valbrona.